Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo Kiros Caravan International Kiros Evo Limited. È 5, è un camper con il doppio matrimoniale posteriore. Andiamo a vederlo. Vedete la finitura, i colori e la luminosità di questo camper è veramente accogliente. Vedete, questa è la seduta, questa è la possibilità di farsi entrare facilmente i colori che sono seduti. Guardate questa seduta, molto comoda e ergonomica, vi garantisco, venite a provarla perché è molto confortevole. Le rifiniture molto ben curate, guardate proprio la parte anteriore com'è molto elegante e funzionale perché la cosa importante è anche la funzionalità. Poi il blocco cucina, c'è un bel pianetto d'appoggio e poi i due fuochi e il lavandino. Un bel frigo e poi sotto l'armadio. Questa parte qui è una parte, diciamo, usabile in varie forme. Si usa o in questo caso con il doppio matrimoniale, questo qui sopra può essere, o un matrimoniale, come vedete, è costituito da due singoli, per cui se siete in tre, avete, levate questa parte qui, quindi stando di dietro e vi trovate meglio a poterci entrare. Vedete, qui è così, con una, uno lasciate a casa e uno rimanete. Eventualmente siete in quattro, diventa un matrimoniale sopra e un matrimoniale sotto. con le protezioni ai due letti. Il bagno, eccolo qua, questo è il water, una bella vasca molto profonda, quindi siete tranquilli che non bagnate fuori. Poi, vedete, questa è la doccia, con la tenda, quindi mi muogo bene nello spazio. E poi, con la sua finestra, il suo contenitore e poi il lavandino, eccomi qua. La parte posteriore, questi sono due materassi, quindi viene posto sopra, poi vedete, questo è lo spazio del sottostante, con i vari accessi, questo e gli altri due, mentre dall'altra parte c'è il serbatoio. Quindi, se vi è piaciuto, venitela a vedere, perché l'importante è l'ingombro del van, è molto importante entrarci dentro e capire gli spazi. Con l'aiuto dei miei collaboratori, vi potremo consigliare sul van che è per voi. Come sempre, a degli ottimi prezzi e servizi per avambarci. Ciao!